io vorrei io veramente alessia vorrei la prova di essere cazzara stratega c'è ma non so perché non so cosa succeda però sarebbe interessante sentire anche cappa ecco mi sembra che io non ti ho mai detto nessun segreto cara marina tu sei andata a dire che io ti ho parlato di un segreto io non voglio parlare del segreto in questione ma io mai nella mia vita perché come ho già detto l'unica persona col quale io mi sono espresso è stato il mio amico betta ricordiamo che era la prova scusate lo ricordiamo per il pubblico questo segreto era riguardava la prova da me assolutamente io non giuro io non giuro mai sulle persone che amo ma sono disposta a giurare sui miei figli tu sei venuto una mattina da me e mi hai detto il segreto adesso non vogliamo aprire la polemica che era fatto vincere maddaloni perché maddaloni me l'ha chiesto però voglio dire se uno dice cazzate poi la cazzara devo essere io tesoro mio io ho sempre solo unicamente parlato va benissimo va benissimo tesoro mio non è vero non è vero caspar che tu hai detto questa cosa marina dico dico bugie non è vero niente no tesoro l'hai presa avuto da altri non da me dico bugie non è vero santa dico ragazzi dico dico Grazie a tutti